Ciao Ginevra, mi hai raccontato delle cose sulle scarpe Calo che hai comprato l'anno scorso che sono interessanti. Cos'è che hai trovato di bello? Io ho comprato l'anno scorso un paio di questi, le Calo, giusto? Chia, Calo, schia. E stavo dicendo che mi sono trovata benissimo e mi stavo informando per il nuovo paio a questa sana. E come le usi? Io guido il motorino, vivo a Roma e quindi stavo dicendo che sono state perfette perché devo usare tutto l'autunno e l'inverno scorso per andare in motorino quando piove. Adirittura quando piove? Cioè, principalmente quando piove. Allora abbiamo superato anche il test motorino, il test buche di Roma e il test pioggia. Ginevra, grazie, sai. Ciao, aiuterai qualche persona a comprare delle scarpe Calo. Sicuramente. Convincevole. Le vietone, io 41. Comodissimo. Adirittura c'hai con il tuo? 41. Perfetto. Ciao, grazie Ginevra.